Ok, ci apprestiamo a fare l'unboxing di un nuovo elicottero Valchera, sempre proveniente da Elipal, la scatola è piccola, non ci sono stati problemi con la dogana, classica scatola Valchera, la foto dell'elicottero Lama 2.1, anche questa volta è stato aperto, credo che la fattura, il manuale di istruzioni e bellissimo elicotterino, dietro per i cambi che avevo chiesto. Grazie a tutti. Pali di ricambio. Batteria di ricambio, non so per che cosa. E la batteria colina, proviamo subito a vedere se è carica. Grazie. Grazie. Grazie.